Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Alex, il vostro capitano e benvenuti nel mio canale. Oggi, guardando le Crypto Bubbles, spuntano all'occhio tre progetti principali. 1. Ada Cardano più 15%, 2. CRO più 16% e 3. Solana che ha un 6.1% raggiunge i 200$ di prezzo dopo marzo del 2024, quindi praticamente da 10 mesi Solana non stava a questo livello, a questo punto di prezzo. Molto molto interessante. Oggi parleremo di CRO, degli nuovi sviluppi che sta lanciando la piattaforma di CRO e anche le promesse che sono state fatte per CRO. Non ho CRO nel mio portafoglio, non ci ho mai investito, non credo di volerci investire in questo momento, non perché non sia un buon momento, questo non posso saperlo, ovviamente qualsiasi cosa io possa dire non deve essere intesa come un consiglio finanziario, ma non fa parte della mia strategia. Ho già altre coin che rispettano più o meno i stessi parametri di CRO e in questo momento non ho intenzione di andare ad espormi anche su questa criptovaluta. Detto questo, ci tengo molto a fare una price prediction su CRO perché il token è stato sponsorizzato tantissimo dalla scorza burranna e tantissime persone che sono all'interno di questo settore e sono entrate nell'ultima fase del 2021, tantissime di loro sono rimaste incastrate con CRO tramite la loro pubblicità pazzesca che facevano su tutti i siti internet, youtube, instagram, venivamo tempestati dalle pubblicità che c'erano su CRO e era veramente uno dei pochi exchange che si distingueva per facilità, per utilizzabilità, per usabilità, era veramente un exchange che si distingueva. Poi nel tempo sono nati altri exchange che secondo me hanno funzionalità molto molto migliori ed è questo il primo difetto che provo a trovare, a cercare su CRO ma prima di incominciare l'analisi ragazzi vi voglio chiedere di mettere un like, di commentare, di condividere il video e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale se invece non avete ancora un exchange di riferimento, oggi parleremo di CRO ma il mio exchange di riferimento che è sponsor anche del canale è BingX e all'interno della descrizione qua sotto trovate tutti i link per entrare sui miei canali, sia social che usare i miei referral o sponsor link per quanto riguarda BingX mi raccomando fatelo, se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi subito Allora torniamo su CRO, il primo difetto che mi sento di accollare tra virgolette a CRO è che sì l'exchange è molto semplice, sì l'exchange è molto facile ma se ci si muove all'interno dell'applicazione beh devo dire che ci sono dei costi, delle fee davvero davvero immensi davvero immensi e rendono molto difficili gli spostamenti di asset anche all'interno dell'exchange o gli swap di qualsiasi tipo di asset all'interno dell'exchange e questo è un qualcosa che secondo me deve essere migliorato e personalmente ho preferito non utilizzare CRO proprio per questo motivo cioè non utilizzare il crypto.com, l'applicazione proprio per questo motivo e quindi boh non lo so il secondo difetto è che ha perso abitabilità dopo il cambio di governance e di performance per quanto riguarda le carte di CRO vi ricordate c'erano delle carte che a seconda di quanti CRO detenevi all'interno dell'exchange di quante venivano messe poi in staking, in earn oppure in staking bloccato all'interno di CRO vi venivano attribuite delle carte di debito o credito che potevano essere utilizzate poi nella vita normale dove potete spendere i vostri soldi, i vostri token o semplicemente le vostre criptovalute beh riceverate un cashback e delle agevolazioni per quanto riguarda Netflix, Amazon Prime e altre cose del genere a seconda di quante, anche sconti sui voli aerei, a seconda di quanti CRO avevate bloccato all'interno dell'exchange beh tutte queste agevolazioni sono state ridotte più che dimezzate e questo si è rivelato solo una grossa campagna pubblicitaria che voglio dire all'inizio ci sta però magari sarebbe stato meglio non sparare così tanto alto all'inizio ma arrivare a questi livelli gradualmente senza dover sparare prima in alto e poi dover tagliare le gambe un po' a tutti in questo momento ci sono carte migliori per esempio anche la Nexo Card che dà il suo cashback in questo momento sono secondo me estremamente migliori e sicuramente non terrei il CRO in stake nell'interno di un exchange preferirei magari tenerli per esempio su Nexo ecco, come in termini di sicurezza avendo come esperienza in passato quello della chiusura di FTX il crollo di Terra Luna, insomma ci sono dei rischi non indifferenti a tenere tutte le vostre crypto all'interno di un exchange ecco, altra cosa CRO ha sviluppato la Kronos Chain, terzo difetto di CRO che mi sento di darvi e la Kronos Chain non si sta sviluppando, o meglio non ha sviluppato fino ad ora non ha sviluppato a sufficienza rispetto a una Solana, rispetto anche se parliamo di exchange coin anche rispetto a BNB, non hanno sviluppato a sufficienza non sono stati creati su Kronos abbastanza progetti è rimasta molto molto ferma pur essendo una coin che è rimasta in top 50 per tantissimo tempo e lo sviluppo, anche perché insomma hanno diverse proprietà da poter investire lo sviluppo è stato veramente così così Injective, Jupiter, Solana, anche paradossalmente Ada Cardano ha sviluppato molto 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 di più per non parlare ovviamente di Ethereum e comunque un layer 1, un exchange coin che rimane così ferma per così tanto tempo dopo aver fatto tante promesse insomma ha fatto un po' storcere il naso a diverse persone a diversi investitori e considerate anche che in un settore in quello delle cripto dove abbiamo avuto una crescita esponenziale di Injective, Solana, Ethereum in questo caso si sta comportando bene perché stanno tornando nuove coin, nuove, come si chiama, meme coin che stanno nascendo su Ethereum, su Base che stanno sviluppando sotto sotto, diciamo sotto banco beh, si continua a crescere guardate Solana, è tornata a 200 dollari dopo un mercato comunque rialzista devastante di Solana ma perché hanno creato tutto un ecosistema di meme coin in questo caso che hanno sovraperformato la maggior parte del mercato gli hanno permesso uno sviluppo davvero 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 grande e poi non è detto che si debbano creare solo meme coin anche progetti validi questo non c'è da metterlo sicuramente in discussione ma in questo momento la Cronus Chain non ha ancora creato niente è arrivata anche qua una promessa che svilupperanno molto di più la Cronus Chain è arrivata e quindi io personalmente tendo a credere a queste cose che vengono dette e in più stanno cercando di ridurre i costi all'interno dell'applicazione quindi all'interno dell'exchange e cercheranno di, anzi introdurranno e questo lo vediamo, un'informazione che è uscita di recente lancia il trend di azioni e Cronus, quindi CRO esplode del 18% l'abbiamo visto come effettivamente nel settimanale Cronus ha fatto un 37% non solo un 18% ma un ben 37% che ci ha permesso comunque ha permesso a molti investitori di tirare un po' un sospiro di sollievo perché comunque Cronus è arrivato a un prezzo di superiore ai 10 centesimi addirittura se non sbaglio nel giornaliero ha toccato ecco gli 11 centesimi quindi insomma siamo andati ad avere delle performance davvero buone praticamente è cresciuta di più di un terzo in una settimana quindi ha fatto delle performance davvero buone su dichiarazioni su aggiornamenti che effettivamente stanno arrivando e questo mi fa tirare un po' un sospiro di sollievo continuo a dire che comunque Cronus è un token che è stato altamente inflattivo non ha una max supply fissa la total supply è fissata a 30 billion la circulating supply a 26.57 billion se andiamo a vedere infatti il grafico della market cap rispetto al prezzo considerate che qua eravamo a 22 billion quasi 23 billion e avevamo come prezzo circa 90 centesimi ok quindi 9 volte rispetto ad ora in questo momento abbiamo poco di più di 2,5 billion fatto un po' per 9 ancora i conti non tornano ok ancora non tornano i conti perché saremmo una supply distribuita completamente diversa quindi è stato un token molto 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 inflattivo non sappiamo ancora non sappiamo ancora se riusciremo ad arrivare a livelli simili a quelli che possono essere quelli del 2021 secondo me sarà molto 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 complicato vederlo agli stessi livelli perché ripeto c'è stato un inflazionamento del token abbastanza importante e in più Kronos Kro aveva cavalcato una pubblicità davvero davvero incredibile infatti guardate che differenza dal primo e il secondo pump questo è stato il primo pump di bitcoin e questo è stato il secondo pump di bitcoin nel secondo pump di bitcoin l'exchange aveva preso davvero davvero un sacco di piede e attraverso promesse e attraverso queste famose carte attraverso una grandissima pubblicità avevamo visto come effettivamente Kro aveva acquistato davvero dei prezzi pazzeschi difficile anzi difficilissimo raggiungere gli stessi prezzi a mio parere guardiamo il grafico di ethereum che ci può sicuramente guardiamo prima quello di Kro eccolo qua guardiamo prima quello di Kro sembra che attraverso questo pump abbiamo rotto questo treno discendente che va avanti da praticamente marzo del 2024 dove Kro aveva raggiunto i 16-17 centesimi abbiamo rotto attraverso questo pump questo trend ribassista prima resistenza che abbiamo incontrato è stata questa abbiamo avuto questa piccola respinta vediamo se VTC essendo già in price discovery riporta Kro a questi livelli prossimo supporto come possiamo vedere è quello praticamente dei massimi di marzo prossima resistenza scusate quello dei massimi di marzo il supporto dove ci troviamo ora è dei 10 centesimi è quello che ci ha tenuto un po' sotto anche qua ad agosto i primi mesi di agosto e i primi mesi dell'anno del 2023 è un po' questa resistenza che non ci ha fatto scavalcare Kro negli ultimi tempi siamo molto distanti dai minimi comunque siamo a più di un per due dai minimi quindi insomma è una coin che tutto sommato sembra abbastanza in salute non è una di quelle che ha sovraperformato il mercato in modo incredibile che è parecchio sotto performante rispetto a bitcoin ma comunque sembra abbastanza in salute nonostante il riflessionamento del token se andiamo a tracciare con un AC retracement vediamo come l'obiettivo teorico che io me lo imposto sempre ai nuovi all time eyes tra il 1618 e il 1618 vede CRO stare sopra il dollaro e mezzo per me sarà molto molto complicato tanto anche l'inflazione dato al fatto che l'hype per questo exchange coin è sceso molto sceso davvero davvero molto era un trend che secondo il mio parere non si ripeterà in questo bull run e poi ripeto rimane un mio parere non si ripeterà in questo bull run e quindi potremo vedere molto probabilmente CRO non in all time eyes se prendiamo i 93 come all time eyes probabilmente non vedremo CRO ai all time eyes una di quelle coin se dovessi tirare una monetina e scommettere se posso fare all time eyes o no io direi CRO probabilmente non farà all time eyes ma comunque avrà una performance secondo il mio parere di tutto rispetto che potrà essere inclusa tra 0, 6, 1, 8 quindi 60 centesimi e l'all time eyes quindi all'interno di questo canale qua di questi due canali qua questo verde scuro e il canale bianco dei all time eyes quindi tra i 60 e i 90 centesimi di dollaro come dicevo Ethereum si è comportato in modo molto simile sapete che Ethereum è la coin l'alt coin per eccellenza anche qua abbiamo avuto una prima rottura dopo beh anche qua dopo marzo praticamente no dopo luglio possiamo estenderlo anche qua anche a maggio del 2024 abbiamo avuto una prima rottura di questa trendline riba fortemente ribassista vediamo se con questa candela riusciremo a rimanere sopra e iniziare una piccola inversione di trend oppure una resistenza una semplice resistenza per quanto riguarda Ethereum su Bitcoin vi ricordo questo è il grafico Ethereum su Bitcoin quando Ethereum inizia a prendere forza su Bitcoin anche le alt possono iniziare effettivamente a prendere forza su BTC andiamo a guardare la dominance di Bitcoin la crypto dominance che oggi ha aperto con una candela abbastanza con una candela abbastanza rossa una candela molto rossa nella giornata di ieri con le altcoin che hanno performato bene è un primo segnale forse di debolezza guardate un po' un primo segnale di debolezza della dominance di BTC da quando è salita sopra i 60 ha stampato solo candele verdi sopra i 60 prima candela rossa ha anche una certa entità anche abbastanza grande sapete che come ho già detto in diversi video in diverse live sopra i 60 per cento di dominance per ogni momento buono per iniziare un'inversione non è detto che abbiamo iniziato un'inversione perché vedete anche qua abbiamo stampato 3-4 candele rosse tutte di fila e poi BTC ha trovato supporto siamo tornati a salire secondo me la vera e propria inversione può iniziare ad accadere tra questi momenti qua e la fine del 2024 quindi potremmo avere ancora tempo di fare un'ultima leg up esplosiva e poi andare a ritracciare iniziare a ritracciare sulla dominance ok che secondo me è il punto di inizio per l'altcoin season possiamo vedere delle similitudini ok nello scorso ciclo qui vedete abbiamo visto un piccolo ritracciamento anche qua abbiamo visto una prima esplosione della dominance un forte ritracciamento e poi ultima leg up di bitcoin per poi iniziare l'altcoin season ci siamo tempisticamente ci siamo se andiamo a vedere il picco del del 2021 abbiamo il picco a gennaio 2021 quindi a fine dei 4 anni di inizio del ciclo di btc ok quindi alla fine dei 4 anni l'altcoin season dovrebbe iniziare se prendiamo quindi il ciclo quadriennale dovrebbe iniziare tra dicembre e gennaio del 2024 quindi abbiamo ancora diverse candele potremmo trovarci in questa situazione qua abbiamo tempo effettivamente di fare un piccolissimo ritracciamento e poi l'ultimo spike e riniziare a stornare e a fare questi movimenti ok e l'inversione della dominance che in questo caso è stato davvero davvero netta e veloce vediamo come sarà in questo in questo ciclo basterebbe per btc andare a ritracciare sulla dominance anche senza arrivare così tanto in basso potremmo arrivare a prezzi simili secondo me a percentuali simili per per btc perché comunque abbiamo gli etf che tengono btc dominance molto molto più alta rispetto a molte aspettative anche se ci sono coin che comunque che comunque prendono spazio ok guardate il grafico dominance btc abbiamo di fatto una dicotonia con btc che comunque non stampa candele rosse ma la dominance scende perché significa che le altcoin in questo momento hanno performato leggermente meglio rispetto a btc se dovessi dare una price prediction di crore quindi per terminare il video vi do come price prediction tra i 60 e i 90 centesimi ok tra circa 60 e l'ultime i scorso che significerebbe dal prezzo attuale da un per 6 a un per 9 quindi una performance secondo me di tutto rispetto di estremo livello e per cro nonostante l'inflazionamento nonostante tutto questo a patto che cro sviluppi e crei quell'ecosistema che ci ha promesso detto questo io non investo su cro penso che ci siano progetti migliori dello stesso settore ma comunque ci teniamo a parlarne perché molte persone sono state incastrate da quello che è stata una velocità diciamo devastante nel 2021 quindi ci tenevo a portare un contenuto del genere prossimo video adacardano con gli aggiornamenti su adacardano noi ci vediamo nel prossimo video del vostro capitano è tutto ciao ragazzi grazie a tutti